Ciao a tutti, sono il maestro Fidelessandro Santagati e in questo video commenterò la partita che ho giocato contro il grande maestro Mia Guerle grande maestro orientale l'olanda partita in cui ho giocato col nero, quinto turno nel torneo di Eris l'ho giocato d4, l'ho giocato d5, c4, c6 e a questo punto cavallo f3 cavallina f6 cavallo c3, a6 la mossa 6 è una mossa molto interessante l'idea è quella sia di poter spingere in b5 per comunque prendere spazio dal lato di donna e pressare c4 però la mossa 6 è utile comunque sia anche in altre situazioni perché molte volte possiamo prendere in c4 e poi spingere c5 ed è utile la mossa 6 che comunque mi cita un controllo su b5 che impedisce per esempio salti di cavallo mosse con alfiere in b5 dunque una mossa che è utile sia per la spinta b5 ma è utile in collegamento anche per la spinta c5 dunque ha più funzionalità il bianco gioca e3 alfiere f5 portiamo via fuori dal rata c8 subito dall'alfiere per non lasciarli imbottigliato soprattutto perché con la spinta b5 eventuale in futuro chiaramente avrebbe davvero poche chance di poter entrare in gioco donna b3 e qui ho giocato la mossa torre a7 che è un mostro interessante la torre sembra piazzata male però in realtà in futuro dopo l'eventore spinta al plano b la torre fa il suo ingresso in gioco e può comunque sia avere la sua utilità l'idea è quella di non difendere con la donna perché comunque la donna ha già la sua funzione di difesa su d5 e dunque di non sovra caricare la donna la difesa di più punti cavallo e5 mossa che non è molto forte perché in realtà è vero che il cavallo si porta in una situazione diciamo di attacco però è anche vero che io posso prima difendermi con e6 per fare valo d7 rendendo alla fine quasi inutile questo salto di cavallo in e5 dunque non è in cui io mi sono semplicemente difesa con e6 alfiere d2 cavallo d7 lui deve comunque cambiare non è molto utile fare f4 perché si indebolirebbe troppo cavallo per d7 cavallo per d7 è qui utile prendere di cavallo perché il cavallo può aiutare a fare c5 per esempio può essere utile diciamo anche perché non su lui però comunque controllare la casa b6 può avere la sua rilevanza mentre prendere di donna non ha molto senso perché la donna in d7 non fa praticamente nulla alfiere d2 e qui una mostra di questa posizione d per c4 mostra che ho giocato perché lasciamo cediamo un petone centrale però per avere una forte iniziativa donna per c4 c5 l'idea è semplicemente fare b5 non può fare a4 per impedirla perché arriverebbe la fortissima b5 e non può mangiare perché se no c'è per b5 con doppio attacco la donna è attaccata e la torre è attaccata dunque perde materiale se gioca donna 4 con l'idea di impedire la spinta e l'idea è quella che adesso b5 non posso più fare perché se no mangio e la metterò in difesa potrei fare semplicemente donna b8 difendo la torre e poi faccio b5 dunque è interessante dunque è giocata e4 b5 donna d3 alfiere g6 seguendo una situazione molto complessa h4 h4 è una mossa che mi ha preso di sorpresa non mi aspettavo questa mossa penso comunque sia interessante perché mi costringe ad indebolirmi sul lato di re devo fare sostanzialmente h5 per fermare il suo pedone e a questo punto alfiere g5 non sono molto sicuro di questa mossa perché alla fine credo che dunque qui alfiere g5 che non è probabilmente una mossa molto precisa perché alla fine la mia mossa donna b6 è utile probabilmente dopo h5 poteva subito fare d5 mantenendo l'alfine in d2 perché non è detto che l'alfine in d5 sia un vero e primo miglioramento comunque andiamo da partire alfiere g5 d5 donna b6 e a questo punto d5 c4 interessante da parte mia crea un forte contro gioco e la donna adesso deve andare via però non è chiaro dove questa donna debba andare perché su ogni casa c'è un problema diverso allora alla fine ha scelto di andare su c2 che non è probabilmente la scelta migliore forse era d2 anche se è davvero complicato qui riuscire a capire qual era la casa migliore in assoluto che l'alfine c5 a rocco comunque sia a rocco corto del nero non sono messo malissimo perché comunque con una forte pressione su f2 il nero comunque sta abbastanza bene lui ha scelto c2 alfiere c5 a rocco corto e qui c'è davvero una mossa molto interessante e per d5 l'ho giocato dopo cavallo per d5 donna b6 la donna attacca il cavallo e attacca anche i4 quindi crea un forte attacco su queste due case lui ha dovuto giocare cavallo f4 donna per qui c'è un problema perché diciamo che il bianco può cambiare le donne però questo finale effettivamente sembra favorevole per il nero perché il nero ha una maggioranza di donna ha dolfiere abbastanza forti per doni molto avanzati probabilmente il gioco corretto il bianco può cercare la parità però il nero sembra stare un po' meglio per questa regione qui il bianco non ha cambiato le donne ma ha gioco la donna d1 e dopo la donna d1 ha rocco corto il mio re comunque deve essere messo al sicuro dunque è fondamentale a roccarsi adesso che è possibile l'ho gioco alfiere per h5 qui però viene la mossa più forte è alfiere per h5 perché dopo per esempio donna per cavallo e5 ha un po' di problemi con questi pezzi un po' bloccati no? perché minaccio sempre f6 dunque destra attento però ho visto questa situazione molto molto attraiente dunque ho preferito evitare tutte queste complicazioni e giocare la semplice alfiere f5 che magari al gioco corretto non mi dà vantaggio però mi dà sicuramente maggiore tranquillità qui ha giocato cavallo d5 probabilmente era sostanzialmente unica qui torre 1 per prendere subito la conna e io avrei proposto il cambiare le donne dovrebbe dovuto giocare le donne 2 dopo il fila d3 il ne conquesta sempre un po' meglio qui ho preferito fare cavallo d5 che è un errore perché arriva cavallo alle 5 e qui già il nero ha in vantaggio perché minaccio torre d7 per esempio dunque ha grossi problemi qui avendo anche poco tempo guarda commetto uno sbaglio abbastanza importante torre 1 sfugge questo atticismo alfiere per f2 deve prendere di re e poi cavallo d3 deve morire la donna va semplicemente a catturare il cavallo e a questo punto alfiere f3 sposto la donna torre 2 che è entrata ora sotto attacco dunque va spostata e a questo punto donna g3 forse non posso un po' avventarlo vado subito a attaccare il re con la donna forse potevo consolidarmi con donna d7 prima anche perché la donna per montare anche la doppia possibilità può creare pressione sia da un lato che dall'altro dunque forse non è proprio precisissima donna g3 donna d2 torre d7 donna d3 è un'altra una mossa interessante perché comunque impedisce f6 impedisce la scopertura potrebbe avere comunque le insidie io ho giocato alfiere g4 la mia idea semplicemente è quella di eliminare comunque la doppia di alfieri perché è una posizione molto aperta dunque raggiunto la doppia di alfieri dovevo anche spazio ad un possibile gioco del bianco dunque alfiere g4 mi sono una mossa molto logica lui ho giocato a f1 qui non mi conviene cambiare la vediamo molto brutta da parte mia dopo alfiere per f3 perché dopo torre per donna per esempio c7 mi faccia un'altra cosa anche per esempio alfiere f6 il bianco può creare un forte attacco sul mio re anche grazie a torre g3 dunque ho evitato il cambio anche per questo motivo inoltre non ho motivo di cambiare ho giocato re h8 l'idea di re h8 è fare f6 se gioco alfiere f6 per esempio posso tornare indietro con alfiere f6 interessante forse qui potrà il bianco provare h5 con l'idea che se f6 allora io alfiere per g4 donna per g4 e qui il bianco potrà provare l'interessante h6 che onestamente viene completamente sfuggito in partita perché se io che posso cioè ho tutto inchiodato dunque qui il bianco può effettivamente salvarsi in questione interessante è vero difficile comunque da trovare qui il bianco ha giocato donna b6 con l'idea che su f6 l'alfiere è libero di andare via io ho giocato f6 alfiere a3 qui cavalle 5 la nostra logica che mira forzare dei cambi soprattutto forzare il cambio del fiere in g4 perché se no chiaramente lo catturo io avendo adesso due attaccanti che lo stanno pressando fiere per g4 donna per g4 attaccando la torre in e2 torre 1 e qui ci ho pensato un bel po' perché è una situazione dove è chiaro che sono dove ho un vantaggio netto però devo stare molto attento a cosa fare la mia prima idea era di fare donna per h4 che non è così male però dopo l'alfiere f2 non avevo un'idea chiara inizialmente ho pensato a cavallo f3 però dopo la presa in realtà credo che non si vada oltre il perpelle in questa posizione riesce a difendersi dunque ho pensato se prendo e ho però la torre già in d5 allora la cosa cambia d'altronde il grosso vantaggio è che dopo la torre d5 il bianco sostanzialmente non ha mosse cioè non ha mosse che creano dei problemi dunque io semplicemente faccio una mossa che migliora la posizione lasciando il bianco nei suoi problemi tant'è che poi lui ha fatto donna per a6 anche perché comunque si trova in problemi di tempo dunque devo rimuovere velocemente e adesso faccio donna per h4 dunque faccio la stessa mossa di prima poi la posizione è altamente migliorata la minaccia adesso è cavallo f3 perché se prende il torre prende il torre in e1 giocatore 2 per evitare questa minaccia però a quel punto arriva cavallo g4 minaccio matto e adesso ho il lato raggiuntiere che mi aiuta il torre f4 il torre h5 minaccio matto in 1 il bianco non resta chiaramente che abbandonare dunque partita molto interessante diciamo nel nero è riuscito a sfruttare al massimo la maggioranza di donna che sostanzialmente ha costretto il bianco a delle scelte non troppo felici perché c'era sempre il problema ok cambiare le donne o meno il cambiare le donne portava un finale inferiore mentre tenerli in gioco così apportava il bianco a avere davvero tanti rischi dunque questo è proprio quello che ha creato dei problemi al bianco e alla fine è costato principalmente la sconfitta per questo video è tutto vi ringrazio per l'attenzione vi do appuntamento per i prossimi grazie ricorda di seguirmi sui social networks e di condividere il video grazie